Ciao a tutti, buon Natale e buon anno nuovo. Io sono Giuseppe Aranoia dell'Ansambla Teatro Instabile e oggi anche su indicazione della provincia di Matera che ci ha voluti in questa esperienza con gli amici di TRM registreremo qualche fiaba, qualche favola, fiaba e favola non sono la stessa cosa. E quindi vi racconteremo qualche bella storia un poco andata in disuso ormai per i bambini e anche per i grandi che sono rimasti bambini. Qui ci sono un sacco di libri, siamo nella biblioteca provinciale e vi invitiamo a venirla a visitare così ci stacchiamo un poco dai computer e quando sarà possibile ovviamente, quando questo maledetto virus ci avrà lasciato, potremo leggere le tante parole che ci vengono dalla notte dei tempi. Pensate che un favolista, possiamo chiamarlo, Gian Battista Basile nel lontano 600 raccolse delle favole lucane e le mise in una grande raccolta che si chiama Il Pentamerone, Lo Cunto degli Cunti e poi tante altre fiabe che qui ci sono e sono bellissime. Adesso andiamo e ascoltiamo qualche favola. Babbo Natale partì dal Polo Nord il giorno della vigilia. I folletti quel giorno ebbero un grande affare per terminare i giocattoli e fare pacchettini e per riempire la slitta. E finalmente partì. Il viaggio fu abbastanza movimentato e pieno di soste. In una di queste incontrò un ragazzo povero, ma entusiasta del Natale, che lo aspettava con ansia. A Babbo Natale, quando vide la gioia negli occhi di quel bambino, gli si riempì il cuore di felicità. Gli piaceva consegnare i doni, se come ricompensa portava allegria ai bambini. Finalmente, il buon vecchio dalla barba bianca arrivò alle porte della città a bordo della sua tintinnante e scintillante slitta. Quest'anno la slitta era più carica del solito. C'erano pacchi, pacchetti, pacchettoni di tutti i colori e tutte le forme. Che incanto guardarla! Babbo Natale non vedeva l'ora di consegnare tutti quei regali ai bambini e di godersi la gioia dei loro visetti al momento di scartarli. Babbo Natale incitò le sue regne e a gran velocità entrò allegramente sotto l'arco della porta principale. Era notte fonda. Al principio non se ne accorse, ma dopo un po' cominciò a vedere qualcosa di strano. Non c'erano alberi addobbati, nessuna stella cometa fatta di lampadine. Le vetrine erano tutte buie. Quando poi la sua slitta passò sotto le finestre della scuola elementare, il suo sbalordimento fu davvero grande. Non c'era niente alle finestre, neanche un piccolo disegno. Ma insomma, disse anche un po' seccato, che modo è questo di ricevermi? Babbo Natale fu preso dallo sconforto e cominciò a pensare che si fossero dimenticati di lui. Ma subito si riprese e bussò ad una porta per chiedere spiegazioni. Venne ad aprire un vecchio malandato che lo guardò con gli occhi assenti e spiegò a Babbo Natale che anche quel giorno avevano subito dei bombardamenti perché quella città era in guerra e quindi la gente aveva paura di morire. Per questo i bambini non andavano a scuola e si erano nascosti e tutte le luci della città erano spente per non farsi vedere dal nemico. A queste parole, Babbo Natale si rattristò moltissimo e allo stesso tempo pensò che doveva regalare un po' di felicità. Tirò fuori dal sacco un mantello nero e avvolse tutta la città per nasconderla al nemico. Suonò la campana e accolse tutti in piazza dove addobbò il più grosso albero di Natale. Illuminò tutta la città di mille luci e distribuì tanti doni a piccoli e grandi. E, come per il canto, anche gli occhi delle persone tornarono a brillare. Quella notte d'inverno, fredda e rigida, Giuseppe cercava disperatamente qualcosa che potesse riscaldare sua moglie e il figlio appena nato. Era andato di casa in casa, aveva bussato a tutte le porte, ma nessuno gli aveva dato un po' di carbone o una fascina di legna. Camminò fino ad essere esausto. Quando oramai credeva inutile ogni ricerca, scorse in un campo un bagliore di fuoco. Corse verso di esso. Un greggio di pecore si riscaldava intorno alla fiamma mentre un vecchio pastore lo sorvegliava. Quando il pastore, che era un vecchio scorbutico, vide avvicinarsi il forestiero, afferrò il lungo bastone ferrato e glielo scagliò contro. Giuseppe non fece una mossa per scansarlo, ma prima che lo raggiungesse, il bastone deviò la traiettoria e cadde a terra innocuo. Giuseppe si avvicinò al pastore e disse gentilmente «Ho bisogno di aiuto. Per favore, posso prendere alcuni carboni ardenti? Mia moglie ha appena messo al mondo un bambino e devo accendere un fuoco per riscaldarli». Il pastore avrebbe preferito rifiutare, ma vedendo che Giuseppe non aveva niente per trasportare le braci, voleva prendersi gioco di lui. «Prendine quanti ne vuoi», disse. Giuseppe, senza scomporsi, raccolse le braci a mani nude e le mise nel suo mantello come se fossero nocciole o mele. Il pastore disse meravigliato «Che notte mai è questa?» Pieno di curiosità, seguì Giuseppe e giunse così alla stalla dove c'erano Maria e il bambino adagiato sulla fredda paglia. Il suo cuore si intenerì. Per la prima volta provò il grande desiderio di offrire qualche cosa. Tirò fuori dallo zaino una morbida pelle di pecora e la offrì a Giuseppe perché vi avvolgesse il bambino. In quel momento i suoi occhi si aprirono e vide gli angeli e la gloria di Dio che circondava la mangiatoia dove il bambino sorrideva contento. Il pastore si inginocchiò tutto felice perché aveva capito che in quella notte il suo cuore si era aperto all'amore. Era la notte santa. Un povero calzolaio lavorava ancora nella sua unica stanza dove viveva insieme alla moglie. Entro la mattina successiva avrebbe dovuto consegnare un paio di scarpe per il figlio di un ricco signore. «Hai già pensato a quello che potremmo comprarci con il guadagno di questo lavoro?» chiese il calzolaio alla moglie. «Sono piccole, ci daranno ben poco», scherzò lei. «Accontentiamoci, meglio questo che niente». Il calzolaio appoggiò le scarpe sul banco e se le guardò soddisfatto. «Guarda che meraviglia!» esclamò. «E senti come sono calde con questa pelliccetta dentro!» «Un paio di scarpette degne di Gesù bambino!» «Hai ragione!» rispose il calzolaio mettendosi a spazzolarle. «Allora che cosa pensi di comprare per il pranzo di domani?» riprese l'uomo dopo un attimo. «Ma pensavo un cappone!» «Già, senza un cappone non sarebbe un vero Natale!» «Forse anche mezzo!» «D'accordo! E poi?» «Due fette di prosciutto!» «Sicuro, il prosciutto come antipasto!» «E poi il dolce!» «E poi la frutta secca!» «Giusto! È da bere una bottiglia di sfumante!» «Sì, una bottiglia basterà, ma che sia buono!» «A quel punto si sentì un colpo alla porta!» «Hanno bussato?» chiese l'uomo. «Ma chi sarà a quest'ora?» «Forse il cliente!» «No, no, no, gliele devo portare io domattina!» «Allora sarà il vento!» «Ma il rumore si sentì di nuovo!» «Ebbe un moto di sorpresa!» «Un bambino la guardava con grandi occhi neri dalla soglia della porta!» «I suoi capelli erano tutti spettinati!» «I suoi vestiti erano laceri e sporchi!» «Entra piccolo!» «Lo invitò la donna!» «Il bambino entrò!» «Aveva le labbra bluaste dal freddo!» «Il calzolaio guardò subito i suoi piedini!» «Ma tu sei scalzo!» «Gridò!» «Il piccolo non parlò, guardò le scarpe!» «Anzi, le accarezzò con gli occhi, ma senza invidia!» «L'uomo e la moglie guardarono prima i piedi nudi del bambino e poi le scarpe sul tavolo!» «Quindi la donna fece un cenno al marito!» Il calzolaio prese in mano le scarpe, li osservò contento e disse «Prendile! Te le regalo! Sono morbide e calde!» La moglie aiutò il bambino a infilarsele «Grazie!» rispose sorridendo «Sono le prime che porto! Ora però devo andare! Buonanotte!» Il calzolaio e la moglie non fecero in tempo a salutarlo «Che il bambino era già sparito!» «È fatta!» esclamò l'uomo «Ora niente più prosciutto, né cappone, né frutta, né dolce!» «E neanche lo spumante! In fondo a me lo spumante non piace nemmeno» «Ah, e io non digerisco il cappone!» «Anche il prosciutto, non è che...» «E il dolce poi...» «C'è rimasta qualche noce e un po' di pane raffermo» disse la donna «Va benissimo, passeremo un bel Natale» Tutte e due pensavano al bambino «Penso che gli siano piaciute le scarpe» aggiunse il calzolaio «Sì, mi sembrava molto contento» In quel momento suonò la messa di mezzanotte e la stanza ci illuminò all'improvviso Il calzolaio e la moglie furono abbagliati da quella luce Poi, quando riaprirono gli occhi nel punto in cui il bambino aveva calzato le scarpe videro spuntare miracolosamente un abete con una stella in cima Dai rami pensolavano capponi, prosciutti, dolci, frutta secca e bottiglie di spumante Soltanto allora capirono chi fosse quel bambino e si inginocchiarono a ringraziare Dio No Non crediate che io sia un mago da fiaba Non ho bacchetta fatata ne faccio incantesimi Nel nostro paese che è la Persia mago vuol dire sapiente cioè studioso Anche noi avevamo molto studiato specialmente sul libro chiamato Avesta Le nostre spalle si erano incurvate su quel libro Le nostre barbe erano diventate bianche nello studio Il libro annunziava la venuta di un saggio signore o di un vittorioso liberatore Prima di noi generazioni e generazioni di sapienti avevano atteso questo miracoloso personaggio ma sempre in vano Oramai eravamo vecchi e temevamo di dover chiudere gli occhi senza aver visto il liberatore Guardavamo il cielo in attesa di un segno annunciante la sua venuta Ed ecco una stella di straordinario splendore farci segno di seguirla Partimmo felici montati sulle migliori cavaltature vestiti riccamente con le corone in testa e i doni in mano Non sarebbe stato conveniente presentarsi a quel gran personaggio senza regali Uno di noi prese una coppa d'oro simbolo di potenza regale Un altro prese un'anfora piena di incenso simbolo di onore sacerdotale L'altro ancora prese un calice di mirra simbolo di redenzione La stella ci faceva da guida Nessun corteo aveva mai potuto vantare un simile battistrada Valicammo monti attraversammo pianure guadammo fiumi e incontrammo città senza che la stella accennasse a fermarsi Giunti a Gerusalemme il re Erode fu avvertito del nostro arrivo Seppe che cercavamo il re dei giudei e chiese ai suoi sapienti Dove dicono i libri che deve nascere il Redentore? Anche gli ebrei avevano un libro chiamato Bibbia dove era annunziata la venuta del Salvatore Perciò i sapienti risposero al re Erode Betlem sarà la sua culla Andate a Betlem ci disse Erode e al ritorno mi narrerete di lui Riprendemmo a viaggiare e la stella viaggiava con noi finché non si fermò sopra una povera stalla Trovammo il bambino fasciato e deposto nella mangiatoia fra due animali Quale abbandono e quanta miseria Il re del mondo giaceva su pagliatrita senza corte d'attorno e senza onori A quella vista la nostra sapienza si confuse Avevamo sperato di trovare un potente re in una reggia sfarzosa in mezzo a ricchezze e a splendori Vedendo tanta umiltà ci sentimmo umiliati Mettemmo fuori i nostri doni oro incenso e mirra Il bambino ci guardò come per accettarli Ma noi sentimmo che non bastava offrir quei soli doni Egli non si aggrappava né d'oro né d'incenso né di birra Voleva insieme il nostro cuore e lo voleva ripieno di quella ricchezza che non si estingue mai e che si chiama amore A questo amore che si traduce in carità la nostra scienza di vecchi sapienti non aveva mai pensato Ce lo insegnò un bambino nato da poco in una stalla con un sorriso che ringiovanì il nostro vecchissimo cuore Siamo nella biblioteca del Museo Nazionale Ridola colmo di testimonianze archeologiche dai tempi più remoti fino ai tempi recenti del Medioevo più recenti Siamo sempre tra i libri e da questi libri non proprio da questi ma dai libri da cui abbiamo estrapolato alcune fiabe e alcune favole a tema natalizio continuiamo a leggervi qualche altra favola Prima in un altro contesto ho dimenticato di nominare i lettori gli amici lettori che sono Emanuele Asprella Erminio Truncellito e le illustrazioni sono di Mariangela Tripaldi quindi seguitemi così ascoltiamo altre favole di Natale C'era una volta un vecchio mercante che viveva da solo in un paese sperduto tra i monti non aveva né famiglia né amici viveva esclusivamente per accumulare denaro e ricchezze Gli affari erano l'unica cosa cui teneva ed era talmente avaro da perdere il sonno nel timore di essere derubato Di notte spesso si alzava e andava a contare il denaro che teneva nascosto in una cassa panca Per quest'uomo contava solo il guadagno e non si faceva scrupolo di agire in modo disonesto approfittandosi dell'ingenuità delle persone Non voleva conoscere quelli con i quali faceva affari Non si interessava delle loro storie e dei loro problemi Per questo nessuno gli voleva bene Una notte di dicembre quando ormai Natale era vicino il vecchio mercante non riuscendo a dormire decise di uscire a fare una passeggiata Nelle strade sentì un allegro vociare risate urla gioiose di bambini e canti La cosa non era affatto usuale nel suo paese ed ancora di più si incuriosì non avendo ancora incontrato nessuno nonostante voci e rumori sembrassero molto vicini A un certo punto udì qualcuno che pronunciava il suo nome chiedeva aiuto e lo chiamava fratello ma quell'uomo non aveva fratelli o sorelle e si stupì Per tutta la notte ascoltò le voci che raccontavano storie tristi e allegre vicende familiari e d'amore Venne a sapere che alcuni vicini erano molto poveri e che sfamavano a fatica i figli che altre persone soffrivano la solitudine oppure che non avevano mai dimenticato un amore di gioventù Pentito per non aver mai capito che cosa si nascondesse dietro alle persone che vedeva tutti i giorni L'uomo cominciò a piangere Pianse così tanto che le sue lacrime si sparsero sul cespuglio al quale si era appoggiato Al mattino le lacrime non sparirono Al mattino le lacrime non sparirono ma continuarono a splendere come perle Era nato il vischio I fili d'oro Una graziosa leggenda spiega l'origine dei fili d'oro e d'argento con cui gli abeti vengono ornati In una lontana notte di Natale in una casa di campagna con tanti bambini l'albero era pronto già ornato di candeline e di palle colorate Era così bello che anche il cane e il gatto erano rimasti a lungo in ammirazione e i topi avevano messo il musino fuori dalle tane Anche i ragni che stavano nascosti negli angoli bui della stanza incuriositi dall'insolito chiarore vollero rendersi conto di quel che stava succedendo Si arrampicarono di ramo in ramo di palla in palla di candelina in candelina Eh sì era un bell'albero convennero e tornarono soddisfatti i loro angoli nascosti La mattina i bambini si alzarono felici e corsero ad ammirare il loro albero Meraviglia Non c'erano soltanto le palle colorate le arance e i gingilli ma i rami erano ornati da un lungo filo d'oro che faceva brillare l'albero In quella notte di prodigio anche la bava dei ragnetti si era trasformata in un filo prezioso Da quel lontano Natale Ogni albero si ornò di luminosi fili d'oro ed argento Era il 1917 uno dei terribili anni della prima guerra mondiale Sulle trincee espirava un vento gelido e c'era tanta neve I soldati si muovevano cauti La notte era senza luna ma serena e tutti avevano paura di incontrare delle pattuglie nemiche perché il nemico era lì davanti a loro Ad un tratto un caporale disse sottovoce è nato Eh? Fece un altro senza afferrare l'allusione Deve essere la mezzanotte passata per Bacco la notte di Natale al mio paese mia moglie e mia madre saranno già in chiesa Un altro compagno osservò Guardate là c'è una grotta Andiamo dentro un momento Saremo riparati dal vento Entrarono nella grotta e il più giovane del gruppo si tolse l'elmetto si sfilò il passamontagna e si inginocchiò in un cantuccetto Il caporale rimase all'entrata e voltò le spalle all'interno con fare superiore ma era perché aveva gli occhi pieni di lacrime Il più vecchio del gruppo si tolse i guantoni raccolse un po' di terra umida e manipolandola qualche minuto le diede la forma approssimativa di un bambinello da presepio Poi stesse un fazzoletto nell'elmetto del compagno e vi depose il Gesù bambino Si scorgeva appena nella fioca luce delle stelle riflessa dalla neve Il caporale trascurando ogni prudenza tolse di tasca a un mozzicone di candela l'accese e la pose vicino all'insolita culla Poi sotto voce uno cominciò a recitare Padre nostro che sei nei cieli Tutti continuarono e avevano il cuore grosso da far male Il raccoglimento durò ancora dopo la preghiera Nessuno voleva spezzare l'atmosfera che si era creata Improvvisamente alle loro spalle una voce disse Freulich Weinachden Una pattuglia austriaca li aveva colti alla sprovvista Con le armi puntate stavano all'imboccatura della grotta Mentre i soldati scattavano in piedi la voce ripetè con dolcezza Buon Natale I nemici abbassarono le armi e guardarono la povera culla Erano tre giovani e avevano bisogno anche loro di un po' di presepio anche se povero Si guardarono confusi poi si segnarono e cominciarono a cantare Still and Nacht la bella melodia natalizia che tutti conoscevano Tutti si unirono al coro anche se si cantava in lingue diverse Poi quando si spense l'ultima nota del canto il caporale si avvi Ok prendiamo un altro un po' Si Poi quando si spense l'ultima nota del canto il caporale si avvicinò a uno dei giovani nemici e gli tese la mano che l'altro strinse con calore Tutti fecero altrettanto augurandosi il buon Natale Poi uno degli austreci trasse da dentro il pastrano una piccola scarpina da neonato Doveva essere quella del suo bambino e se la teneva sul cuore e dopo averla baciata la depose accanto al bambino Gesù rimanendo per alcuni attimi in preghiera Poi si voltò di scatto e seguito dai compagni si allontanò voltando le spalle senza timore e scomparve nella notte di quel gelido Natale di guerra Che freddo quella notte le stelle bucavano il cielo come punte di diamante il gelo induriva la terra sulla collina di Betlem tutte le luci erano spente ma nella vallata ardevano rossi i nostri fuochi le pecore ammassate dentro gli stazzi si addossavano le une sulle altre col muso nascosto nei velli noi di guardia invidiavamo le bestie che potevano difendersi così bene dal freddo si stava attorno ai fuochi che ci cocevano da una parte mentre dall'altra si gelava sulla mezzanotte il fuoco cominciò a crepitare come se qualcuno mi avesse gettato un fascio di pruni secchi nello stazzo le pecore si misero a tramenare alzavano i musi in aria e belavano sentono il lupo pensai cercai a tasto il bastone e mi alzai i cani giravano su se stessi e uggiolavano hanno paura anche loro pensai intanto anche i compagni si erano levati da terra facemmo gruppo scrutando la campagna non era più freddo il cuore invece di battere di paura sussultava quasi di gioia era d'inverno e ci sentivamo allegri come se fosse stata primavera era di notte e si vedeva la luce come se fosse giorno sembrava che l'aria fosse diventata polvere luminosa e in quella polvere a un tratto prese figura una creatura così bella che ne provammo sgomento non temete disse l'apparizione io vi annunzio una grande gioia destinata a tutto il popolo oggi vi è nato un salvatore nella casa di Davide e questo sia per voi il segnale troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia non aveva finito di parlare che da ogni parte del cielo apparvero angeli luminosi e cantavano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà poi tornò la notte e noi restammo come ciechi nella valle piena di oscurità i fuochi si erano spenti le pecore tacevano e i cani si erano acciambellati per terra abbiamo sognato pensammo ma eravamo in troppi a fare lo stesso sogno lì vicino sulla costa della collina erano scavate alcune grotte che servivano da stalla avevano la mangiatoia formata di terra dura se il salvatore si trovava in una mangiatoia voleva dire che era nato in una di quelle povere grotte infatti trovammo come ci aveva detto l'angelo un bambino fasciato in mezzo a due animali un bove e un asino l'asino vi era giunto con i genitori del bambino sul basso dove sedeva il padre pensieroso presso la mangiatoia si trovava inginocchiata la madre in adorazione del suo nato guardai quel bambino il cuore mi sintenerì sono un povero pastore ma ogni volta che vedo un agnellino mi commuovo e quel bambino mi parve il più tenero il più innocente degli agnelli non so dire altro posso solo aggiungere che non ho più provato in vita mia una dolcezza simile a quella provata dinanzi a quel bambino anche ora ci ripenso e mi torna la tenerezza per quell'agnello innocente e gentile sono un povero pastore perdonatemi se lo chiamo così è per me il nome più dolce e più caro